Quattro secoli di attività e ancora continua il Piemonte della Misericordia a voler essere luogo di bellezza accogliente e ospitale. A due anni dall'insediamento di Fabrizia Paternò di San Nicola, la sua soprintendenza, il Piemonte ha deciso di impegnarsi in misura ancora maggiore per farsi sempre più casa di tutti. Per noi l'accoglienza è iscritta nel nostro DNA, è nella nostra missione, quindi abbiamo secondato semplicemente questo e con la grande differenza che io vorrei rimarcare rispetto ai progetti che vengono fatti per la disabilità è che noi li abbiamo fatti insieme alle persone con disabilità. Prima un incontro di presentazione, poi una performance della compagnia teatrale dell'Associazione La Scintilla nella Cappella Seicentesca del Piemonte, dove è conservato il celebre dipinto del Caravaggio. Quindi una visita tra le opere d'arte conservate nello storico palazzo di Via Tribunali, ora accompagnate da strumenti in braille installati ad hoc per ciechi e ipovedenti. Ci ha detto di più Vincenzo Massa, vicepresidente nazionale dell'IRIFOR e coordinatore del centro stampa braille della Campania. Credo che l'apertura di una casa come il Piemonte della Misericordia sia un evento straordinario ed eccezionale e noi siamo lieti di avervi preso parte realizzando un percorso di descrizione di 37 opere. Io direi le prime 37 opere perché mi auguro che questo percorso si possa allargare. Per le famiglie più piccoli poi il Piemonte ha messo a disposizione uno spazio di lettura realizzato insieme con la Fondazione Polis. Un luogo che punta a migliorare il rapporto tra adulti e bambini, come sottolineato da Nicola Caracciolo, governatore del Piemonte della Misericordia. La domanda classica è perché devo portare mio figlio che non sa leggere? Ma se non li leggo chiaramente non imparerà mai a leggere. Invece i libri sono uno strumento straordinario di apprendimento. La domanda classica è una domanda classica.